Nel Vangelo non c'è quasi altra parabola che sveli il cuore di Dio quanto quella del figlio prodigo. Il padre che riaccoglie in casa il minore dei suoi figli, che pure lo ha lasciato, e che anzi gli va incontro, lo abbraccia commosso e gli fa festa, mostra, ha affermato il pontefice all'Angelus in piazza San Pietro, un uomo sempre pronto a perdonare e che spera contro ogni speranza. L'uomo della parabola, ha ribadito Papa Francesco, è figura di Dio, il padre misericordioso, che riserva altrettanto amore anche verso il primo figlio che si sente nel giusto, un atteggiamento, ha osservato Papa Bergoglio, che non è gradito a Dio. E oltre ai due figli si può intravedere ha indicato anche un terzo figlio nascosto, Gesù, il Dio figlio che assume la condizione di servo per essere estensione delle braccia e del cuore del padre. In Gesù ha assicurato il Papa Dio ci ama oltre ogni misura ed è sempre pronto ad aprirci le sue braccia qualunque cosa sia successa. Come il padre del Vangelo, anche Dio continua a considerarci Suoi figli quando ci siamo smarriti e ci viene incontro con tenerezza quando ritorniamo a Lui e ci parla con tanta bontà quando noi crediamo di essere giusti. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non scalfiscono la fedeltà al suo amore. Nel sacramento della riconciliazione possiamo sempre di nuovo ripartire. Egli ci accoglie, ci restituisci la dignità dei figli Sui. Egli ci accoglie, ci restituisci la dignità dei figli Sui. Egli ci accoglie, ci restituisci la dignità dei figli Sui.